Poi anche lei è ben ritrovata qui con noi e studi di number two. Tutto il resto che lui ha detto di giocatori, cioè io sinceramente non spenderei una lira, perché visto la situazione attuale del Napoli, una sua logica, altrimenti trovo proprio illogico questo acquisto. Di pausa e qualcuno o da casa, tramite telefonino. Anche i telefonini, forse è un mezzo ormai non usato sicuramente. Si riesce ad avere sangue freddo e continuare ad andare avanti? Se dovrebbe, probabilmente no. In generale, in caso specifico per giocatore, insomma giovani, c'è bisogno di stimoli importanti. Se ci fosse un stimolo come appunto la Coppa UEFA, sarebbero più motivazione, più voglia di vincere, di arrivare lì su. Possiamo anche non arrivare, però è importante volere, essere motivate ad andare avanti, avere questa grande voglia di vincere. Secondo me questa viene un po' a mancare, insomma l'augurio che faccio è che si ritrovano questa grande voglia di rivincita, perché noi stiamo qua e le appoggiamo in piedi. Grazie a tutti.